Salve gente, sono Alex Pios e oggi siamo su EAD SOCIAR Perfetto Cominciamo subito Continuiamo la modalità arcade Prendiamo l'ultimo personaggio che ho sfidato Sto tizio ora devo sfidare Bene Appena ho di vincere Madonna Mio dio Goal Perfetto 1 a 0 Ok Ok Guarda che si fa autogol Goal 2 a 0 Eh la madonna mia ma sembra un'energia asferica Non ti faccio il mio Che cazzo di gol Pareggio in pochissimi minuti No non ci credo Goal 3 a 2 3 a 2 Eh mi farò il 4 a 2 Sicuro Eh minchia Bastardo questa 4 a 3 Non ci credo 4 a 4 E che cazzo Mio dio Dove il mio personaggio Ok Sembrava che si era teletrasportato Sembrava che si era teletrasportato Madonna di quella madonna Adesso ti ficco una lorda Scusate per le notifiche Goal Goal 5 a 4 Ah 5 secondi dalla fine Non ci credo 5 a 5 Non ci credo Noo 6 a 5 Dai dai prendi palla Prendi palla Ma vaffan brodo Ma dai Ma non è possibile Ma dai Restartiamo No 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 Ai via Brutto deficiente Ai via Beh sapevo che mi segnava sto strozzo Goal 1 a 1 E ti faccio il power Ma non no Eh si Vabbè E che cazzo serve il power da lì Ma pigliati questo Che mi sono fatto autogol Oddio 4 a 1 per lui Ma come cazzo è possibile Ma vaffanculo Ma Oh Cristo Oh Cristo Nonna di quella madonna Ma che cazzo è voli Che sei Superman Goal 4 a 2 Goal Tieni pure teletrasportato Che pippa Ai Io Nonno Deficiente E' morto E' morto il mio Via Goal Ok Via Sì 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 Goal 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 4 Ho pareggiato a 3 secondi dalla fine Che culo Dai power 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 Sì Non ci credo Oddio 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 punti andiamo se posso upgradare qualcosa si dash e oddio ma che cazzo sei tu questo è un robot oddio ma che brutto è hai ficcato un calcio e la palla è andata su plutone è andata gol gol da me che culo oddio e si da quando escono i pugni giganti bello sto gol complimenti zio no 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 ho bisogno del power questo mi disintegra e la madonna mia ma che cazzo è sto sto power gol bello anche questo ok ascolta ascolta devi capire che la vita è così è così che mi hai mancato e io ti prendo adesso e mi fai il power stronzo di merda tutto faccio anch'io il power ma fila in porta insieme alla palla gol 5 a 2 gol 6 a 2 e ti piacerebbe ma quanti tipi di power hai tu? gol non ci credo gol adesso è gol in chiasetta 2 umiliazione totale proprio ogni volta cambia power sto stronzo ho vinto upgradeiamo ancora qualcosa c'è l'alieno adesso bastardo l'alieno bene c'ho tutto di livello 2 non so neanche com'è l'alieno non l'ho mai visto ho paura che sia una bestia oh cazzo che cazzo fai zio e la madonna ma levati dalla minchia e che cazzo di culo di merda gol 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 non spreco il power per un gol così gol asso per finta perché questo me lo para ok mi stavo facendo i cazzi miei chiedo scusa ascolta zio devi capire che la vita è fatta di gol madonna di quella madonna no 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 minchia che gol gli ho dato una fa bello questo questo è migliore non li batte non lo batte nessuno questo vai affanculo vai 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 no 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 ecco le gol ecco mi spiace la vita ma che cazzo ogni volta cambi cambi potere ma sei una mignotta sei abbaffanculo vediamo il power abbaffanculo no ma vedi che c'è la mamma troia allora è abbastanza stronzo sto dicappato oddio oddio no come come non è gol quello oddio oddio santo è la madonna no ma vedi che sei troia ma vedi che sei troia che è stronzissimo l'alieno porca troia dai battiamo solo più sto alieno del cazzo ma baffanculo ma lei va di inefficiente si vabbè questo mi fa gol sopra la testa dai minchia minchia ok tocca a me eh ma vedi che sei stronzo allora finalmente ho segnato col power gol 2 a 2 pareggio vangulo no 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 ma che cazzo si vabbè ma l'alieno è imbattibile che cazzo è ok ho capito ho capito mi hai eh si devi saltare pezzo di deficiente madonna dico la madonna si grande dai 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 subito il power ok minchia che salto minchia che traversa minchia che sconfitta boh raga io ci ho provato spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima belli